Migliorare la durata della batteria in Linux permette di ottenere maggiore autonomia del computer portatile prima di doverlo rimettere in carica, allungando la vita della batteria stessa, riducendo consumi e bollette per minore impatto sull'ambiente. Ecco una serie di banali regole di buonsenso ed interessanti software open source per Linux utili allo scopo. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Migliorare la durata della batteria in un computer portatile con Linux è argomento che attrae diversi utenti del pinguino. La mia esperienza personale mi dice che nella stragrande maggioranza dei casi il semplice passaggio da Windows a Linux è già un ottimo espediente. Ho documentato con alcune prove che, grazie al minore impegno di risorse hardware, per fare le stesse cose la batteria può durare con Linux fino al doppio di tempo rispetto all'uso con Windows, nello stesso notebook. Talvolta però, in casi assai limitati e spesso legati ad hardware troppo recente per un buon supporto Linux o a configurazioni ottimizzate per l'uso di tecnologie proprietarie, alcuni utenti sperimentano comunque autonomia inferiore rispetto a quella con l'utilizzo di Windows nel proprio portatile. Vediamo alcune regole di buonsenso, ovvie ma certamente utili per ridurre consumi e aumentare l'autonomia. Scopriamo le migliori applicazioni software open source per Linux per ottimizzare la durata della batteria in un laptop, dai due più suggeriti che si gestiscono molto facilmente da riga di comando, ad altri non meno validi e dotati di finestre e interruttori. Il consiglio più banale è relativo all'accorgimento più efficace per migliorare la durata della batteria in Linux, quello di adattare la luminosità dello schermo durante l'uso. Anzitutto i medesimi tasti che consentono di gestire la luminosità nei notebook equipaggiati con Windows funzionano di regola anche in Linux. Spesso in combinazione con un tasto FN si trovano indicatori legati alla luminosità. In ogni caso, dalla gestione dell'alimentazione, così si chiama l'utilità in Linux Mint Cinnamon, è possibile intervenire sulla luminosità trascinando un cursore. Un ulteriore importante aiuto lo ottieni anche regolando la diminuzione di luminosità in base all'utilizzo effettivo del notebook. Con Linux Mint Cinnamon e altre distro, un interruttore permette di ridurre dinamicamente la luminosità dello schermo quando inattivo. Ridurre al minimo la luminosità e il ritardo prima che intervenga la modifica può essere molto utile. Nel momento in cui tocchi il touchpad, il mouse o un tasto della tastiera, la luminosità ritorna alla percentuale impostata. Wifi e Bluetooth consumano pochissimo quando non vi è alcuna connessione, ma i servizi di rete restano attivi e in un computer portatile alimentato a batteria si può tentare di risparmiare ogni spunto per aumentarne l'autonomia di carica. Solitamente gli ambienti desktop delle distribuzioni GNU Linux moderne prevedono l'accesso a questi servizi e la disattivazione immediata con il solo clic del pulsante destro. Il servizio Bluetooth non può venire avviato automaticamente ad ogni riavvio peraltro, che è sempre consigliabile quando non devi connetterti automaticamente ad un dispositivo di questo genere all'accensione del PC. Talvolta anche i tasti funzione del portatile in combinazione con il tasto FN permettono l'attivazione e disattivazione delle schede di rete Wifi e Bluetooth. Altrimenti è possibile intervenire da terminale. Il Bluetooth può essere disattivato e riattivato rispettivamente con i comandi sudo systemctl disable Bluetooth e sudo systemctl enable Bluetooth. Quanto al Wifi si può ricorrere ai comandi da terminale per il Network Manager NMCLI. NMLCRadioWifiOff e NMLCRadioWifiOn. Come detto, in linea generale un utente Windows, grazie al minore impegno di risorse, sperimenta quasi sempre nel suo computer portatile un'autonomia superiore con Linux. Ma purtroppo non sempre così. Particolari configurazioni hardware e di kernel possono andare incontro a consumi anomali di energia, limitando in misura significativa l'autonomia batteria. Per fortuna esistono alcune utilità davvero degne di nota per isolare eventuali problemi ed intervenire con misure adeguate e per ottimizzare i servizi per il risparmio energetico e la mobilità e per migliorare la durata della batteria in Linux. PowerTop è un programma originariamente sviluppato da Intel. Si tratta di uno strumento di analisi dei consumi in grado di fornire dettagliate informazioni sul consumo di energia di un computer portatile. Funziona come un task manager, un monitor di sistema, ma invece che del consumo di RAM e CPU si occupa di analizzare i consumi energetici. Prevede una semplice interfaccia grafica all'interno della finestra di terminale, si consulta e si gestisce con pochi tasti e comandi. PowerTop è disponibile nei repository e centri software di quasi tutte le distribuzioni GNU-Linux. Dopo l'installazione deve riavviare il PC per far partire PowerTop. Verifica che la batteria non sia troppo scarica e dopo aver scollegato il computer dall'alimentazione elettrica lancia nel terminale il semplice comando sudo PowerTop. Lo strumento si avvia in quella che è definita la modalità interattiva. La prima schermata mostra un riepilogo dei componenti di sistema che impegnano più a lungo la CPU o che consumano maggiormente. Puoi spostarti nelle successive schermate con il tasto Tab sulla tastiera. La finestra Stat Idol mostra dettagli tecnici sui periodi di inattività o basso consumo della CPU. Viene poi Stat Frequenza, il monitor dei picchi di frequenza che impegnano i core della CPU. Sotto Stat Dispose sono riepilogati i consumi delle varie componenti hardware del PC. Regolazione fornisce suggerimenti per ottimizzare il tuo sistema ed il relativo consumo di energia. Negativo identifica processi che non risparmiano energia ma che potrebbero influire sulle performance in molti casi. Positivo identifica una impostazione che risparmia energia. Si possono usare le frecce e premere invio sulla tastiera per modificare singolarmente le opzioni. Ma c'è un sistema automatico più rapido per intervenire, stiamo per vederlo. Esci dalla modalità interattiva premendo esca sulla tastiera. Nel terminare ricevi inizialmente un messaggio di errore di caricamento di un file seguita dall'indicazione dei rilievi che PowerTop deve ancora eseguire per fornire stime di autonomia della batteria. Nota infatti che per poter eseguire una calibrazione PowerTop necessita di raccogliere numerose informazioni durante l'uso del computer con la sola batteria. È infatti scritto che il file verrà caricato dopo aver eseguito il numero minimo di misurazioni solo con la batteria. Lancia PowerTop nel terminale nella forma sudo powertop-r e un file html di nome powertop.html con il riepilogo dei risultati sarà disponibile per la consultazione successiva anche a programma non in esecuzione. Usa PowerTop nella forma sudo powertop-c e durante l'utilizzo batteria lo strumento si attiva in modalità di calibrazione. Lo schermo si spegne, varia di luminosità, sono disattivate e riattivate porte USB e connessioni. I test durano diversi minuti. PowerTop traccia il consumo di energia e l'attività del sistema. Verifica e calibra retroilluminazione, utilizzo del disco, decor del microprocessore, di porte USB e dischi. Purtroppo le modifiche non sono permanenti. A questo scopo sarebbe prevista per PowerTop un'altra modalità. PowerTop disporrebbe di un'opzione di sintonizzazione automatica con le migliori impostazioni suggerite se già non attive nella propria distribuzione GNU Linux. Sfortunatamente con il mio portatile Acer Intel con scheda Nvidia ho sperimentato problemi con questa modalità che si richiama con il comando sudo powertop-auto-tune. Il programma si blocca con alcuni errori senza che siano applicate modifiche. La versione 2.14 da me provata con Linux Mint 21.1 non è neppure datata. Anche la versione 2.15 installata da sorgenti non ovvia. Indicativo è il fatto che a ottobre 2022 sia stata aperta una segnalazione del bug nelle pagine ufficiali del progetto, comunicazione che non ha avuto riscontro. Non so dire se il mio sia un problema diffuso perché ho provato versioni recenti di PowerTop in un solo computer portatile. TLP è un altro strumento da riga di comando in grado di migliorare la durata della batteria in Linux. TLP è disponibile nei repository di distribuzioni GNU Linux di ogni famiglia. Si installa con un click dal centro software o con un comando da terminale. Il nome del pacchetto è proprio TLP. C'è anche un apposito PPA del progetto per Ubuntu e derivate per integrarlo tra le fonti software autorizzate se il pacchetto non è presente negli archivi ufficiali. Sudo add apt repository ppa2.linrunner.tlp. Se non viene installato automaticamente insieme a TLP, installa anche il pacchetto TLPRDW per la rilevazione e ottimizzazione di schede di rete wifi e bluetooth. In pratica TLP permette di monitorare e modificare le impostazioni kernel che influiscono sul consumo di energia. Il numero di impostazioni di configurazione di TLP è disarmante. E ci sono cautele specifiche per i laptop della serie ThinkPad. Ma non è richiesto di essere un esperto e preoccuparsi perché le impostazioni sono caute e ben studiate e si può sempre intervenire nella modifica del suo file di configurazione in etc.tlp.conf. oppure tramite un programma dotato di finestre che segnalo oltre. Secondo la documentazione ufficiale, le impostazioni predefinite di TLP per il risparmio energetico sono basate su quelle raccomandate da powertop con il comando powertop autotune ma con meno errori e problemi. E le maggiori cautele vengono elencate nel dettaglio. TLP rileva le migliori impostazioni indipendentemente dal fatto che powertop sia installato. Non è infatti necessario si è installato anche powertop. E verifica impostazioni di rete, del wifi, delle porte usb, del bluetooth, degli hard disk e della CPU in modo tale che se certe funzioni non vengono utilizzate esse sono disattivate per risparmiare energia. TLP fornisce due differenti profili, cioè set di impostazioni, per quando il portatile è alimentato a batteria o connesso alla rete elettrica. In questo secondo profilo vengono lasciate impostazioni dispendiose ma utili a sfruttare al meglio le performance del computer. Disconnetti il portatile della corrente e avvia TLP con il comando sudo TLP start e rileverà le variazioni del tipo di alimentazione, batteria e elettricità, applicando utili correttivi per il profilo a batteria. Perché TLP si avvia automaticamente con il sistema operativo si deve abilitarne il servizio. Nelle distribuzioni Linux basate su Systemd come Debian, Ubuntu e derivate, si interviene con il comando da terminale Systemctl Enable TLP Service. Sarà richiesto di indicare più volte la password, viste le differenti impostazioni che si chiede di poter modificare tramite TLP. Ma non serve altro. Dal successivo riavvio, TLP rileverà quando il computer è alimentato solo a batteria applicando i suoi correttivi. Perché TLP si programma un programma installa e dimentica, senza doversi preoccupare di verificare quali servizi e impostazioni del kernel Linux modifica quando si richiede al PC risparmio energetico. Ma le impostazioni sono comunque modificabili nel file di configurazione. Per verificare che il programma sia stato installato correttamente usa il comando sudo TLP stat-s. Ma TLP è anche molto altro e chi voglia cimentarsi con l'ottima documentazione in inglese potrà verificare possibilità raffinate anche legate alla gestione della carica della batteria, per stabilire al di sotto di quale soglia di carica avviare la ricarica e fino a quale percentuale di carica arrivare prima di staccare e non sovraccaricarla. Le più recenti versioni dell'ambiente desktop GNOME, tra cui l'edizione principale di Ubuntu, includono uno strumento, Power Profiles Daemon, che gestisce differenti profili energetici per i portatili quando connessi alla rete elettrica o alimentati a batteria. Ho letto che TLP potrebbe creare problemi con questo strumento ed è quindi suggerito di rimuoverlo prima di installare TLP. Si interviene con il comando da terminale sudo apt-remove Power Profiles Daemon o rimuovendo il pacchetto dal gestore pacchetti Synaptic. Un altro strumento che potrebbe interferire con TLP in ambiente Ubuntu è Laptop Mode Tools, che gestisce già differenti impostazioni di ottimizzazione di moduli kernel per computer portatili. È uno strumento valido, specie da quando è prevista una finestra in cui modificarne le impostazioni. Ma è bene non sovrapporlo a TLP che agisce su alcuni dei medesimi parametri. Come spiegato, TLP consente di fedarsi e non preoccuparsi di aspetti troppo tecnici legati alle sue impostazioni, che sono comunque modificabili per ciascun profilo di alimentazione. Si può infatti cercare il file in etc.tlp.conf, aprirlo con l'editor di testo, scorrerlo e modificarlo. Ma il modo più semplice per farlo in forma grafica è forse il pacchetto TLP UI. La finestra presenta sul lato sinistro un riepilogo degli ambiti di intervento di TLP e sul destro tutte le relative impostazioni applicate per l'utilizzo collegato a corrente, indicato come ONAC nei parametri, o a batteria ONBET. Al momento non trovo TLP UI nei repository di Linux Mint 21.1, ma è installabile comunque da gestore applicazioni, lo store di Linux Mint in formato flatpack. Al costo però di quasi un gigabyte e mezzo di dati da scaricare e oltre tre di spazio su disco. Le differenze tra powertop e TLP risiedono nel fatto che il primo è per lo più uno strumento di monitoraggio ed analisi, utile per isolare eventuali problemi derivanti da un consumo abnorme di energia. Mentre TLP è più uno strumento per intervenire sui consumi energetici ed ottimizzarli. Vediamo ora l'utilità che secondo me merita la massima attenzione. Slimbook Battery. Di Slimbook ho parlato a proposito della possibilità di procurarsi ottimi computer con Linux preinstallato. Questa azienda spagnola è nota per i suoi PC fissi, mini PC e portatili di qualità e con impeccabile supporto post vendita, ma realizza anche alcune utilità open source ottime per gestire consumi e performance su computer di ogni marca. Tra queste c'è Slimbook Battery, che offre una gestione completamente senza terminale di tanti aspetti legati all'alimentazione. Si appoggia a vari servizi, tra cui TLP, e permette all'utente di gestire tre differenti profili energetici e di passare dall'uno all'altro in un istante tramite un'icona posizionata tra le piccole icone di sistema sempre sul desktop. Slimbook mette a disposizione degli utenti un cosiddetto PPA con i pacchetti del progetto per integrarlo tra le fonti software. Aggiungi con il comando sudo add apt repository ppa due punti slimbook slash slimbook o dal programma grafico per la gestione delle fonti software. Aggiorna la cache dei pacchetti con sudo apt update e installa con sudo apt install slimbook battery. Diverse impostazioni sono preconfigurate ma l'utente può benissimo intervenire nella modifica dei parametri per ciascuna modalità e a seconda delle proprie esigenze. Un'apposita scheda consente di regolare la gestione dei cicli di ricarica della batteria e di attivare un promemoria per ricordare di scollegare l'alimentazione al termine. E questo al fine di prolungare la vita della batteria stessa. Slimbook battery è un programma dotato di interfaccia grafica semplice e immediata. Ottime le impostazioni preconfigurate e la possibilità di modificare singole opzioni che sono chiare senza dover essere un esperto. Informazioni, statistiche, personalizzazione rapida e facile dei profili rendono il programma il mio punto di riferimento attuale nel panorama Linux. E non è tutto, perché grazie al fatto che Slimbook è ferrata nella gestione hardware con Linux esistono ulteriori due specifiche app gratuite ed open source da segnalare. Sono affiancabili senza problemi a Slimbook Battery. Parlo di Slimbook Intel Controller e Slimbook AMD Controller, che installati nelle rispettive architetture gestiscono al meglio tre diversi profili energetici con interventi mirati su specifiche configurazioni. Non fanno che controllare dall'interno di Linux i profili di risparmio energetico bilanciato e ad alte prestazioni con impostazioni specifiche per molti modelli di CPU Intel o AMD. E lo fanno modificando i valori TDP, Thermal Design Point, della CPU. Il TDP, che si esprime in Watt, non sempre è in relazione con i consumi, ma è una misura del calore che dovrà essere dissipato quando il microprocessore lavori a pieno carico. Il controllo dei valori TDP permette a Slimbook di configurare il sistema sia per bassi profili energetici, sia per sfruttare al massimo le performance quando richiesto da compiti impegnativi, come file di grandi dimensioni o rendering, oppure di mantenere un profilo bilanciato. Anche i pacchetti Slimbook Intel Controller e Slimbook AMD Controller sono installabili con un comando di installazione dopo aver aggiunto il PPA di Slimbook ed aggiornato la cache dei pacchetti come descritto per Slimbook Battery. Ho raccolto indicazioni utili a migliorare la durata della batteria in Linux e documentato i programmi più noti allo scopo ed il loro utilizzo. Spero possano esserti utili e aumentare la sensazione di sicurezza di essere un utente Linux perché quello del risparmio energetico è un altro dei tanti aspetti che non viene trascurato da chi non ti spia e non ti chiede denaro per goderti ottimi programmi. Ti ricordo di visitare la pagina principale del canale per vedere come ho organizzato i video già pubblicati che considero sempre attuali. Li trovi organizzati in playlist secondo un ordine logico. Poi il blog alternativalinux.it dove trovi testi, link e comandi descritti nei video con tanti tutorial che sono aggiornati anche dopo la pubblicazione dei video. Infine, se apprezzi il mio lavoro, verifica gli ebook che ho pubblicato e sto per pubblicare su Linux su alternativalinux.it slash ribri. Questi raccolgono il meglio dell'esperienza del canale e del blog con contenuti esclusivi e che possono incoraggiare le attività future sul canale. Grazie per la visione e alla prossima. Grazie per la visione! Grazie a tutti